Amici di Mont Blanc buongiorno sono Nicole Vignola ed ecco che cosa si può fare a Courmayeur. Una cena al chiaro di luna d'estate o d'inverno è un'emozione da non perdere. Sto parlando del rifugio Maison Vieille. Ci vediamo da Giacomo, chi frequenta Courmayeur d'inverno avrà sentito pronunciato questa frase innumerevoli volte perché il rifugio Maison Vieille è al centro del comprensorio ma allo stesso tempo spostato fuori dal caos degli impianti. Un pranzo immersi nel solo abbagliante dell'inverno o in una delle originalissime stanze all'interno del rifugio ha tutto il sapore della festa grazie a Giacomo e alla sua personalità travolgente. Per non parlare delle cene in quota a cui potrete accedere dopo un'entusiasmante corsa in motoslitta ma questo non vale solo per l'inverno perché il rifugio è aperto, frequentato e molto apprezzato anche d'estate ed è raggiungibile o a piedi o in cabino via. E allora ci vediamo da Giacomo. Per vivere la vostra vacanza al meglio vi ricordo di seguirci su questa pagina Facebook. Arrivederci da Nicole Vignola per Aymon Blanc TV